...dall'alto della loro tecnica, da dentro, area di vigore, destro! Si ha toccato qui! Ha segnalato uno in cada area, ballon di Artur, Artur per Arrakiti! Wiedersen a metà! Ora! Un errore per il Johnny Castro E' bellissima, questa passione Super Il metto anche, ancora Il metto, non c'è l'alba Le 3 André Cian Dobri trensbut Che te zagravi Dostarizia 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 Mose occhi nabrati Maio Diuvimsi Ataquo Marezbo Dostarizia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.